I lavori in diga non sono mai terminati, sono iniziati con la mia autorizzazione dell'agosto del 2016 e l'unico problema che c'è stato è un problema tecnico sul pontile per fare transitare dei mezzi pesanti, cosa che è stata discussa ieri nella sede dei vigili del fuoco di Caltanissetta da parte di tutti gli enti che hanno fatto il sopralluogo sul pontile nel mese di novembre dove sono stati arrivati dei problemi strutturali del pontile stesso e della struttura che c'è in testata pontile nel corso della riunione di ieri è stato definito quello che si può fare, i mezzi che possono transitare e tutti i lavori che effettivamente la raffineria può fare sul pontile ed anche in diga quindi non c'è nessun problema, abbiamo stabilito con gli enti tecnici e con la raffineria che ha partecipato alla riunione, con i dirigenti della raffineria che hanno partecipato alla riunione i lavori che possono essere fatti, posso rassicurare gli operai della Sud Elettra che al più presto spero, ma questo dipende dal committente dei lavori, rientrerà finalmente il pontone e potranno riprendere anche i trasporti dei materiali dalla diga al pontile Considerato che c'è stato un tavolo tecnico, allora le chiedo per quale motivo protestano? Sappiamo benissimo che in questi mesi ormai l'occupazione nell'indotto del porto è andata sempre più ha avuto problemi molto grossi nello stesso tempo cerco sempre, come ho detto per quanto riguarda il discorso delle guardie fuochi di agevolare la possibilità di lavorare a Gela anche per i signori della Sud Elettra, spero in qualche modo di poterli aiutare ma è un aiuto dato dal comandante della gabineria che è sempre l'autorità portuale che praticamente ha bisogno di avere sempre un'assistenza da parte di chi dà il lavoro a questi signori quindi invito anche i datori di lavoro dei signori che sono qua davanti, che stanno scioperando di venire da me, di incontrarci e di parlare specialmente con i committenti dei lavori In questo caso la raffileria? Penso proprio di sì Grazie 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 Grazie